in questo video voglio mostrarvi gli ultimi acquisti che ho fatto al mercatino delle pulci sabato mattina in realtà sono ho trovato pochissima roba solo quattro modellini ho acquistato sebbene il mercatino delle pulci che ho visitato a garbagnate milanese alle porta di milano sembrasse essere molto promettente perché c'erano tanti espositori molti di questi avevano una piccola cassetta con dentro delle automobiline loose però erano quasi tutti modelli recenti tantissimi hot wheels dopo il 2000 comunque modellini che io non acquisto ho trovato solo un espositore che aveva un po di Magiorette interessanti ne ho acquistate quattro a cominciare da questa Renault Clio numero la numero 270 che è stata prodotta dalla Magiorette dal 1991 al 1999 e queste con le bandiere dal numero che riporta è chiaramente la versione del 1993 e in discrete condizioni forse un po le sospensioni però neanche tanto però comunque un modellino che non avevo e quindi sono stato contento ad acquistarlo in discrete condizioni appunto ho pagato un euro e direi che va bene questa invece è la Lamborghini Countach la numero 237 che è la Magioretta prodotto tra il 1980 e il 1995 questa la versione nera senza l'alettone posteriore è del 1983 e questa l'ho acquistata perché ne avevo già diverse di Lamborghini Countach e della Magiorette ma è un modello che mi piace molto e nera non l'avevo mai vista completamente nera sembra che non abbia nemmeno delle decal e quindi diciamola quella acquistata per restaurarla insieme ho trovato anche quest'altra versione con l'alettone anche se quella l'alettone un po' traballante questa versione rossa con questa livrea bianca davanti con il toro della simbolo della Lamborghini è invece la versione prodotta tra il 91 e il 93 quindi più recente però ho visto che sul sito della fandom oltre alla versione tutta nera senza l'alettone posteriore esiste una versione tutta rossa senza decal con l'alettone posteriore quindi l'idea è quella magari di fare un doppio restauro restaurarle assieme e fare la versione rossa e la versione nera magari aggiungendo qualche particolare col pennello vediamo ho allargato un attimo l'inquadratura per mostrarvi questo ultimo modellino che ho trovato è un modellino della serie 300 della Majorette in particolare il 313 ovvero il camping car deluxe prodotto dalla Majorette tra il 92 e il 2012 questo con la tettoia verde bianco con la tettoia verde la versione del 95 97 il il modellino è il suo nel senso che non l'ho trovato ma ho visto controllato sul sito della fandom questo modellino è abbinato a questo tipo di caravan è interessante perché ancora lo spoiler per il fendiaria insomma per quando si viaggia in autostrada questo è un po' piuttosto giocato non è in buone condizioni o meglio strutturalmente in buone condizioni però la vernice è stata persa in parte però lo spoiler qua il fendiaria il fendivento è presente questo è già notevole però ad essere veramente in ottime condizioni è il caravan deluxe perché esiste anche una versione più piccola più compatta invece con la versione con il caravan articolato appunto la versione della serie 300 deluxe si apre anche questa tettoia verde che si è conservata è abbastanza fragile invece si è conservata molto bene ma direi che proprio tutto il camper tutta la roulotte è in ottime condizioni anche le ruote i trasparenti e diciamo per averla pagata un euro direi che è stato un ottimo un ottimo acquisto